www.felliniuomo.com 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 e siccome il campionato di Serie B, ma lo dico chiaramente, si interessa poco perché poi alla fine credo che bisogna essere uomini fino in fondo, bisogna essere le ali sempre, i campionati di calcio si giocano su 40 partite in Serie B e ci sono dei momenti dove le cose vanno bene perché te hai preventivato, hai messo su una squadra con i connotati giusti per la categoria, però ci sono dei momenti dove le cose possono anche andare bene e i miei dubbi sono proprio questi, la gestione dei momenti brutti. Non vorresti vivere le tre giornate iniziali? Io non voglio vivere, io solo voglio fare l'allenatore. Grazie. Presidente, scusi. Presidente, non lo senti. Presidente, non lo senti.